Questi benedetti prerequisiti se ne parla sempre, che cos'è? I prerequisiti non sono altro che noi accogliamo bambini che hanno già, che sanno già, che sono già, noi non facciamo altro che costruiamo ancora di più il loro sapere, aiutiamo i bambini ad allargare il loro sapere, quindi questa cosa dei prerequisiti poi, come dire, a volte mi sembra anche un po' un termine un po' arcaico, nel senso che non è che il bambino arriva qua che non sa niente, non ha esperito niente, un bambino che sta già, un bambino che ne viene già da una famiglia, un bambino che ha già strutturato il suo pensiero, noi non facciamo altro come dire che forse raffinarlo un po', smussarlo un po', arricchirlo un po', però in un continuo interscambio, perché comunque noi impariamo dai bambini e quindi, come dire, livelliamo e modelliamo sempre il nostro stile di lavoro in base anche al bambino che abbiamo di fronte, al gruppo di bambini che abbiamo di fronte, che cambia di anno in anno, che cambia di giorno in giorno, e quindi questa cosa dei prerequisiti, come dire, i prerequisiti che la scuola infanzia dà, ma sono prerequisiti che la scuola infanzia crea insieme ai bambini che arrivano.